Carissimi fratelli, come vi avevo promesso, la seconda puntata è riguardo Santa Verdiana e questa seconda puntata in realtà sarà un duetto. Facciamo un duetto con Elena Verdiani che ora si presenta. Io posso dire che per me Elena l'ho conosciuta bambina, poco più che bambina, quando sono stato viceparroco per quattro anni a Castelfiorentino e poi da lì è nata anche una profonda amicizia che tuttora ci lega. Tra l'altro, vero Elena, anche il tuo cognome la dice lunga, no? Su quanto Castelfiorentino sia legato a Santa Verdiana, infatti il tuo cognome è proprio Verdiani. Presentati un po' così dici anche che fai nella chiesa, tra l'altro. Allora, sì, il mio cognome ha sicuramente un legame con la Santa e probabilmente appunto tanti cognomi e i nuovi dei tempi antichi hanno preso origine anche da questa devozione verso la nostra patrona. Castelfiorentino, come ha detto, che è il mio paese, è anche il luogo dove la patrona è Santa Verdiana e quindi, diciamo, tante cose dei castellani e di Castelfiorentino sono legate a questa figura di donna. Io nella vita sono un'insegnante, insegno religione nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia. Mi divido proprio in due perché sono per metà sulla scuola ai più piccoli e per metà nella scuola primaria e poi sono anche consacrata nel Lordo Virginum da ormai un po' di anni e quindi vivo, diciamo, il mio inserimento nella chiesa con un servizio nella vita quotidiana da laica consacrata e cerco di vivere al meglio tutto quello che il Signore mi vede di fare anche nella quotidianità della vita. Quindi, diciamo, sono molto legata alla figura di Santa Verdiana perché anche lei non era una religiosa, anche se spesso i pittori la raffigurano vestita da Domenicana, da Francescana, da Vallombrosana, però queste sono attribuzioni che ovviamente venivano dalla devozione e dalla voglia di attribuirsi anche la figura di Santa Verdiana nei vari ordini religiosi che un po' se la contendevano essendo una terziaria in qualche modo e quindi non avendo fatto voti in un ordine particolare e quindi poi i pittori l'hanno raffigurata così, però realmente era una romita, comunque una donna che ha scelto di consacrarsi a Dio nella forma di vita del romitaggio che era quello possibile per le donne del tempo, siamo nel Medioevo, quando l'è vissuta e quindi per fare un tipo di vita del genere. Quindi, diciamo, il mio legame sia di nome, del cognome, ma anche di molte altre cose. Io Elena, addirittura nell'Omelia che ho fatto domenica scorsa presentando questi podcast, ho fatto un breve accenno e ho detto che il legame dei Castellani con Santa Verdiana è quasi un legame quasi viscerale, perché veramente da poche parti si trova un legame dei paesani e così forte alla loro Santa Patrona. E proprio per questo dicevo che Santa Verdiana è una figura importante. Certamente ho illustrato sia nell'altro podcast sia nell'Omelia la scelta di farsi murare in una cella, certamente qualche cosa che ora va al di là del nostro modo di sentire, delle nostre abitudini. Però già io ho messo in evidenza come questo non volesse dire escludersi dal mondo. Ecco, proprio su questo, io ti domanderei questo. Qual è ora il rapporto oggi di Castelfiorentino e dei Castellani con Santa Verdiana? Come Santa Verdiana ancora continua a parlare a questa gente e a noi, insomma? Allora, intanto ti dico subito che Santa Verdiana è la santa, la patrona di tutto il paese, mi dicevi te, nel senso che unisce credenti e non credenti. Diciamo c'è una sorta di devozione popolare verso la santa da parte di tutti. Cioè il giorno della festa che è vicinissimo, ora è il primo febbraio, della patrona si vedono entrare in chiesa tutti i Castellani, credenti e non credenti. Mi ricordo bene. Praticanti, non praticanti, perché ecco, magari ancora più che a Natale, ecco, anche chi frequenta meno, però la visita a Santa Verdiana nel giorno della festa della patrona la fa. Quindi questo per dirti è comunque sentita come una figura di protettrice, di riferimento per il paese forte. Alla festa del patrono partecipa sempre il sindaco, con dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, ma non solo per, ecco, cerimonia, diciamo, ma perché veramente, ecco, è una figura che lega il paese laico e il paese credente. Tant'è che inizialmente il corpo della santa era proprio custodito nella chiesa di San Lorenzo che era di faccia al municipio e si racconta che anche il sindaco avesse una delle chiavi per aprire l'urna della santa. Ecco, a proposito di questo, magari spieghiamo per chi non conosce Castelfiorentino. In Castelfiorentino ci sono diversi luoghi di culto e diverse chiese. Tra l'altro una delle chiese più importanti è proprio la chiesa di San Lorenzo che è posta nel Paese Alto, a Castello lo chiamano Castello Alta, vero? A Castello Alto. E originariamente il corpo della santa era custodito lì. Poi che cosa successe, Elena? Raccontaci. Sì, no, il corpo della santa fu custodito lì per diverso tempo. Diciamo, ti cerco la data precisa, vero? Poi ci fu però la necessità di portarla nel santuario che era stato costruito appositamente proprio sopra all'oratorio di Sant'Antonio. Praticamente era il posto dove Verdiana si era reclusa. La cella, diciamo, della reclusione era in quella zona bassa del paese sopra la quale poi appunto costruirono il santuario. E quindi ci fu un momento della storia in cui decisero di portare l'urna all'interno del santuario costruito proprio dedicato a lei. E fino al 1939 l'urna rimase la sua a San Lorenzo dove dicevi nella parte del Castello Alto. E poi invece fu traslata per portarla giù. E si raccontano diversi aneddoti riguardo a questo trasferimento perché tutte le volte dovevano portare fuori il corpo l'urna dalla chiesa di San Lorenzo verso Santa Verdiana sembra che iniziasse a piovere e quindi bloccava questa traslazione e avvenne più volte. E quindi si racconta nei libri la tradizione tramanda che gli abitanti lessero questo fatto come una contrarietà anche di Santa Verdiana a spostarsi da dove era sempre stata custodita perché ovviamente il paese inizialmente era nato proprio lassù non nella parte alta. Verdiana si era fatta recludere nella cellina giù perché ovviamente era una zona di lampagna dove un po' isolata dal paese dove ovviamente lei poteva vivere l'esperienza di reclusione e di romitaggio però non era neanche tanto lontana dalle mura quindi la posizione aveva scelto era una via di mezzo diciamo tra una lontananza reale e effettiva dal cuore della città perché ovviamente doveva vivere l'esperienza di romitaggio però nemmeno tanto fuori da doverne essere proprio lontana perché appunto quello ci si riaggancia Don Paolo a quello che dicevi prima Verdiana ha fatto un'esperienza di romitaggio di lasciare il mondo ma era una donna che viveva pieno la vita del paese nel senso che tutte le persone si raccontavano alla sua finestra a chiedergli consiglio, preghiere di fronte ai problemi si rivolgevano a lei quindi una figura che uno lo può pensare staccata dalla vita del paese a un certo punto si estranea da tutto e da tutti invece no cioè proprio entrando dentro questo cuore pulsante della preghiera poi era ancora più presente e più vicina a Castellani di quanto non lo fosse se viveva dentro le mura della città stessa E poi per questa traslazione io mi ricordo quando era a Castelfiorentino circolavano anche altri aneddoti non so fino a che punto veri però si diceva che addirittura il proposto dell'epoca che fece la traslazione poi prese anche delle botte dai Castellani sia per motivi politici ma anche per questa traslazione per motivi politici perché forse bisognerà ricordare che Castelfiorentino senza dare giudizi negli anni ruggenti è stato il comune che aveva la più alta percentuale insomma il partito comunista allora aveva la più alta percentuale era il comune più rosso d'Italia ecco per usare questa terminologia e sembra che abitanti di Castelfiorentino abbiano bastonato questo prete primo perché era prete ovviamente contrario diciamo il nemico politico da bastonare ma poi anche perché aveva traslato il corpo di Santa Verdiana giù nel santuario queste sono cose che ancora di più fanno capire il legame con questa santa quindi anche chi non si ritrovava appunto come dicevi te prima succede tuttora anche se chi non si ritrovava magari nella chiesa o in una scelta palesemente cristiana però guai a toccare Santa Verdiana sono le cose belle della nostra fede che davvero possono darci anche qualche cosa di più poi dunque che cosa rimane da dire ancora poi terminiamo questo nostro incontro mi chiedevi all'inizio cosa da Santa Verdiana a Castelfiorentino che è per i castellani è appunto come ti dicevo prima una figura di riferimento una patrona quindi una figura importante però ti direi che non è così solo per i castellani io ho avuto l'esperienza di diversi primi febbraio passati al museo d'arte sacra a far servizio tante persone vengono anche da fuori per ringraziare la Santa di una grazia ricevuta quindi non so come arriva anche fuori del paese la fama di santità di questa donna perché veramente tante persone anche non castellane vengono a ringraziare per grazie ricevute magari un parente, un amico ne ha parlato sono venute a conoscenza in qualche modo di questa storia e persone che poi tornano e vengono a ringraziare magari portando la bambina a cui hanno dato il nome Verdiana perché dopo tante gravidanze andate male erano riuscite ad averla grazie alla sua intercessione persone che sono guarite io ho visto ecco tanta devozione anche da persone che vengono fuori da Castelfiorentino e poi allora per concludere posso dire a chi ci sta ascoltando che Castelfiorentino non si accontenta di avere una festa all'anno di Santa Verdiana ma in realtà sono due ora ad essere precisi la vera festa di Santa Verdiana è il primo febbraio poi il lunedì dopo Pentecoste si fa la festa della dedicazione del santuario però per i castellani è sempre una festa di Santa Verdiana vero Elena? sì, la Santa Verdiana calda e la Santa Verdiana fredda ti è proprio chiamata la Santa Verdiana calda sarebbe quella dopo Pentecoste e la Santa Verdiana fredda quella fatta il primo febbraio come dicevi te però appunto la dedicazione del santuario quindi non è la nascita e la morte ma ovviamente la prima è la nascita al cielo e quindi la morte di Verdiana che si racconta anche con una grande precisione sia stata davvero il primo febbraio quindi il giorno diciamo abbastanza sicuro e quindi è importante e poi l'altra sì non è una festa fissa perché è legata a lunedì dopo Pentecoste quindi varia però abbiamo due momenti di festa per il santuario quindi una festa doppia eh sì, doppia come sono i doppi di Santa Verdiana che precedono la festa del primo febbraio i doppi di Santa Verdiana chi ha ascoltato il mio primo podcast si ricorderà che sono nati dal fatto che alla morte della Santa sembra che improvvisamente è vero Elena tutte le campane di Castelfiorentino abbiano suonato a festa quindi abbiano suonato a doppio come si suol dire non tocche da mano eh non tocche da mano, sì bene Elena ti ringrazio di avermi aiutato a sviscerare e a presentare questa Santa e davvero allora auguro a te tante belle cose tante cose buone per la tua missione nella Chiesa e a chi ci ascolta che questo esempio di Santa Verdiana possa aumentare in tutti il desiderio della nostra santità e di essere vicini al Signore Gesù e visto che non è tanto lontana da Firenze da dove siete voi e potrebbe essere l'occasione anche per venire a fare un bel pellegrinaggio al santuario e conoscere ci stavo pensando quando ora finisce un po' questo problema della pandemia si potrebbe organizzare qualcosa se i miei parrucchiani lo vogliono e chissà proprio magari anche per il giorno di Santa Verdiana va bene e allora ci aspettiamo ciao Elena e grazie di nuovo grazie a voi grazie a tutti